Rivoluzione digitale, giustizia, informazione, Europa, Medio Oriente, sondaggi elettorali. Se ne è discusso nell'ambito del premio Ischia di giornalismo che ha visto tra i vincitori Eugenio Scalfari, fondatore della Repubblica, Marco Damilano, dell'Espresso, Nadia Toffa, inviata delle Iene per il giornalismo sportivo, Massimo Corcione, e infine Domenico Quirico, inviato della stampa, premio Ischia internazionale, Ignazio Escobar.